Che bello, che bello! Come si chiama? Caccio? No, non lei, la fisarmonica. Ah, non si chiama fisarmonica, è un bandoneon. Bandoneon? Sì. E voi che sei aca? Sono venuta per i campionati. Eh? I campionati mondiali di tango. Campionato mondial di tango? Come sono cambiate le cose! Sì, e che voi bailate il tango? Certo, ho studiato in Italia per quattro anni. E studiare il tango? È interessante, è antropologico, mira lo che ti dico. E lei sa ballare il tango? Sì, più o meno, sì. Che me lo fa ballare un tanghetto? Ti pare, c'è? Che? Ora? Un tanghetto solo, poi non la disturbo più. Oh, che incia pelotta! Che? No, no, il nome del tango! Ah, no lo conosco! Sì, va, a ver... Ahi stiamo! Ahi stiamo! Ahi stiamo! Ahi stiamo! Ahi stiamo! Oh, non lo conosco! Ahi stiamo! Ahi stiamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.